buongiorno e ben trovati al consueto punto stampa quotidiano siamo in compagnia di valentina che ci aiuta che ci aiuta con la lingua dei segni a questa mattina è stato inaugurato il percorso sicuro al san salvatore del reparto di malattie infettive che è stato realizzato in tempi record in dieci giorni si tratta di un'area in cui verranno effettuati tamponi e soprattutto sarà utile per fare da filtro per evitando che eventuali pazienti affetti dal virus passino attraverso il pronto soccorso con il rischio naturalmente di contagiare altri utenti e operatori sanitari in questo modo diciamo si è creata una separazione fisica e del delle due aree sono locali che occupano una superficie di 55 metri quadrati fatti di due ambulatori con servizi igienici e un'area di vestizione in questo modo anche il reparto si può accedere direttamente da quei locali al reparto di malattie infettive è proprio in occasione di questa inaugurazione e dovremmo avere sullo schermo le foto del dell'inaugurazione in questa occasione il lines club dell'aquila ha donato 350 mascherine p3 al reparto passiamo alla solidarietà in favore dei più bisognosi da ieri è attivo il numero verde comunale per l'emergenza coronavirus 8 il numero verde comunale per l'emergenza coronavirus che sarà a disposizione anche per la richiesta di beni di prima necessità e generi alimentari da parte di cittadini aquilani in difficoltà il numero ricordo dell'ottocento 666 622 attivo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì in realtà già nei giorni scorsi abbiamo ricevuto molte molte richieste e a la consegna dei pacchi solidali sono dedicati gli alpini del nono reggimento la fase della distribuzione appunto affidata alle penne nere quella di raccolta dei beni invece dalla caritas di san giovanni battista e il coordinamento dei volontariati deputati allo smistamento alla gestione del materiale alla casa del volontariato dell'aquila lo dico anche al fine di mettere a tacere tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni che disorientano la popolazione che danno messaggi non veri e che creano un disagio in questa fase così critica e così così delicata la scelta del comune dell'aquila ribadisco è stata quella di avere una filiera unica nella distribuzione nel reperimento nella distribuzione e nella consegna di questo materiale che è frutto di donazioni e che avviene in maniera del tutto gratuita e lo abbiamo voluto fare attraverso il nono reggimento alpini appunto perché i militari dell'esercito intanto sono soggetti a una disciplina un'organizzazione interna molto rigida e non ci può essere nessuna sbavatura poi perché i alpini sanno esattamente cosa fare e soprattutto come si deve fare io ringrazio tutte le associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione e potranno far riferimento al centro servizi per il volontariato se vorranno mettere a disposizione i propri volontari i propri mezzi le proprie risorse il problema è che la distribuzione avendo a che fare spesso con soggetti a rischio con soggetti potenzialmente con patologie o immunodepressi appunto abbiamo voluto che l'anello di collegamento fra il la raccolta e la consegna fosse affidato appunto al al nono reggimento alpini le associazioni che vogliono possono mandare una mail oltre che al comune a info chiocciola casa del volontariato a q.it oppure al numero di telefono 324 89 16 723 comunque questi recapiti saranno anche nel comunicato stampa che è stato immiato in mattinata e nella newsletter che manderemo questa sera nell'ambito della semplificazione delle attività del comune nei favori in favore degli utenti da il settore rigenerazione urbana del comune dell'aquila ne abbiamo dato notizia ieri insieme all'assessore daniele farella attivato una piattaforma online attraverso la quale i professionisti dovranno inoltrare tutte le richieste in materia edilizia permessi di costruire scia cila possono essere immiate esclusivamente attraverso il sito www.l'aquila.cportal.it che è raggiungibile anche cliccando sul banner sportello unico per l'edilizia situato sulla parte destra dell'home page del portale istituzionale del comune e si tratta soltanto dell'ultima iniziativa che abbiamo attivato dall'inizio dell'emergenza cioè da quando si è scelto di ridurre al minimo l'apertura degli sportelli e lavorare molto più in back office lavorare molto più attraverso la rete piuttosto che attraverso il controllo attraverso la consegna cartacea a mano presso presso gli sportelli e quindi diciamo c'è un'evoluzione anche sulla velocità di consegna del atti documenti ed altro è anche un'efficienza maggiore sulla lavorazione e questo consente anche al personale smart working diciamo di lavorare da casa prima ancora c'era stata la piattaforma per la consegna dei sal per la parametra per le schede parametriche parte 2 e tutto il resto. Controlli di polizia municipale ieri sono state controllate 88 persone ed è stata segnalata e ne è stata segnalata una e poi sono state controllate 71 attività commerciali e non c'è stata nessuna denuncia in particolar modo io voglio sottolineare a tutti i cittadini che così come deciso anche questa mattina in sede di comitato provinciale sull'ordine della sicurezza pubblica per Pasqua e Pasquetta e poi ancora per il ponte il 25 aprile il primo maggio insomma i giorni di festa ci sarà un rafforzamento dei controlli ci rendiamo conto che soprattutto in questi giorni che dovrebbero essere di festa in cui maggiormente c'era l'incontro tra famiglie tra amici scampagnate gite fuori porta trasferimenti sulle seconde case di vacanza chiediamo ulteriori sacrifici ai cittadini però è necessario indispensabile lo abbiamo detto per non per non vanificare tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi quindi ci saranno dei controlli rafforzati dei controlli molto accurati quindi la raccomandazione è a e arrestare dentro casa eh perché si rischiano eh sanzioni e e denunce diamo notizia di un accordo fatto a livello nazionale tra poste italiane e carabinieri ed arma dei carabinieri ventitremila pensionati di età pari o superiore a settantacinque anni ventitremila pensionati eh potranno richiedere legando al ritiro i carabinieri la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza eh covid così da un lato si evita di andare agli uffici postali e dall'altro diciamo si è sicuri nel momento in cui si ha in mano il il denaro i pensionati potranno contattare il numero verde ottocento cinque cinque sei sei sette zero messo a disposizione appunto da poste italiane e chiudiamo con le donazioni l'ASBUC il circolo il comitato festa di Sant'Antonio e la comunità di Colle Brincioni hanno effettuato una donazione di semila euro all'ospedale San Salvatore per le attività del covid hospital il mio ringraziamento va a tutti loro e a quanti quotidianamente fanno piccoli e grandi gesti di eh solidarietà nei confronti eh del personale sanitario e degli investimenti che si vogliono fare in edilizia eh sanitaria e chiunque vorrà essere ringraziato anche pubblicamente potrà eh farmelo sapere perché è importante dare notizia di questi gesti e questa mattina sono arrivate anche eh mille e seicento mascherine P2 che serviranno per l'attività dei prossimi due mesi dell'exompi la donazione è stata effettuata eh da Enel e io ringrazio l'azienda abbiamo deciso di dirottare sull'exompi perché le residenze sanitarie eh socio sanitarie a vario titolo sono quelli dove c'è eh pazienti ci sono soggetti più a rischio ne abbiamo purtroppo abbiamo purtroppo notizie in altre parti d'Italia dove eh è bastato un piccolo contagio per generare un contagio diffuso e a me ci sono stati anche numerosi decessi all'interno delle di queste residenze quindi noi oltre alle misure che abbiamo preso sin da subito quindi la limitazione degli accessi fino alla chiusura totale la creazione di percorsi eh sicuri un sistema di filtraggio delle persone che possono non possono entrare eh incrementiamo anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per il personale appunto che alle prese eh con queste persone poiché le famiglie non possono andare a visitare almeno eh si avrà la eh rassicurazione ulteriore che la gestione dei propri cari avviene in maniera eh sicura nelle prossime ore provvederemo alla consegna formale al presidente del consiglio d'amministrazione a Daniela Bafile affinché ne le utilizzi per gli operatori della struttura. Io ho concluso mi dicono che non ci sono domande quindi eh vi saluto vi auguro buon lavoro e ci vediamo domani più o meno a quest'ora.